AQF anche Edoardo Mucchetti ha vinto la 25 di oggi, domani? Domani la cavallina che ha vinto la 25 fa sempre il gran premio primo grado che è comunque alto 1,25 m mentre il maschio fa il gran premio secondi gradi 1,45 m e speriamo che vada bene Due cavalli diversi fra loro? Sì, sono due cavalli italiani, un maschio e una femmina, vengono tutte e due dalla Toscana Ti ricordi l'allevamento? Il maschio è nato nell'allevamento del Colle, mentre la femmina è nata a Imola Sono due cavalli italiani, il maschio di 10 anni appena compiuti e la femmina di 14 L'hai preso direttamente da Silvia? No, li ho presi tramite altri privati che li avevano acquistati Dove monti? Monto da Matteo Checchi a Cavenago di Brianza Però sei pavese? Io sì, sono pavese E vai a scuola, sei junior? Sì, sono junior, ho 16 anni, vado a scuola, frequento l'agraria di Mortara Come va? No, va bene, io a scuola per il poco tempo che ho per studiare vado abbastanza bene, i risultati ci sono anche a scuola Tanto l'agraria ti fa scavare la terra, ti fanno vangare Sì, praticamente noi abbiamo il nostro orto, dobbiamo coltivarci il nostro orto e poi ci sono le materie di indirizzo Per arrivare poi a essere dottore in agraria? Sì, perito agrario Per continuare anche? No, no, mi fermo qua, finisco il liceo, la quinta e spero di andare avanti in questo sport Con il cavallo? Sì Beh, complimenti Grazie mille Grazie